Nella storia due grandi anime hanno indicato la non violenza come l'unico cammino. Oggi Silo lancia il suo messaggio. La non violenza è la forza che trasformerà il mondo. La non violenza è la forza che trasformerà il mondo. La non violenza è la forza che trasforma il mondo. La non violenza è la forza che trasforma il mondo.